Oggi con grande fatica ti parlo di otto aspetti più uno che ti tengono inchiodato in una situazione che non vorresti, con risultati veramente scarsi, imbullonato alla tua sedia col freno a mano tirato, col tuo progetto frenato. Ci tengo a fare questo video per quale ragione? Perché abbiamo potuto notare dopo centinaia e centinaia di persone affiancate che questi sono i pattern più comuni, è proprio qualcosa in cui tutti si ritrovano. Quindi a chi si rivolge questo video? A tutti. E voi direte, ma come? A tutti è la parola peggiore che uno possa usare? No, tutti. Che tu sia un professionista navigato, che tu sia un aspirante professionista, che tu sia una persona che ha progettualità artistiche che non sono sostenibili, che tu sia un musicista, un produttore artistico, un mixing engineer, un fonico, mi interessa. Cioè questi sono aspetti che tengono inchiodati tantissimi progetti. Qui sei su MB, Music Business Italia. Se non ci conosci, vai magari a farti un giro sul canale e puoi trovare tantissime informazioni sul mondo della musica e sulla quella che noi chiamiamo la consapevolezza e la sostenibilità progettuale. Parto col primo, ovviamente ho degli appunti, la lentezza. Cioè un problema ricorrente enorme che abbiamo notato in qualsiasi figura presente in questo settore e che vuole veramente riuscire a portarsi a casa i risultati è l'essere lenti come la morte. Io questo l'ho già detto una volta, ma ci tengo a ripeterlo e ad approfondire. Perché oggi la lentezza è mortale? Perché siete in un mercato e sei in un mercato dove le cose veramente cambiano ogni tre mesi. Cioè se io penso a come certi pattern e certi meccanismi funzionavano quattro mesi fa, cinque mesi fa, oggi cacchio non è più così. Certe cose che funzionavano cinque o sei mesi fa, oggi devono essere più complesse, devono essere meglio gestite. Più si va avanti, questa è una cosa che notiamo tantissimo, più devi veramente sapere a chi stai parlando, che cosa stai facendo, quali pezzi del puzzle stai mettendo insieme, perché, che tipo di viaggio le persone fanno, eccetera. In tutto questo vi direte cosa c'entra con la lentezza? C'entra tantissimo. Perché? Perché quando si è lenti nel passare dal pensiero all'azione, siete in balia di questi cambiamenti. Quindi che cosa succede? Che tantissimo del lavoro che noi abbiamo dovuto fare e che ci troviamo a fare è che magari arrivano da noi persone che hanno progettualità o hanno magari pensato delle strategie che però non avendole messe in campo in tempi brevi e non avendo ricevuto feedback, si ritrovano con delle progettualità e delle strategie che non sono più sostenibili nella condizione attuale. E questo ve lo dico veramente, spero che vi passi in modo molto sincero questo, cioè non potete metterci 3-4 mesi per fare il primo passo, non potete metterci più di 3-4 mesi per testare il vostro modello o anche solo testare le vostre idee. Al netto che poi decidiate di affiancarvi a noi, con noi, senza di noi, chi se ne frega, ma avete qualcosa in mente, provate, testate, cercate un feedback il primo possibile. Perché? Perché se no rimanrete sempre nel mondo dell'idealizzazione, ok? Di quello che è, ma, è, se, però mi manca questo, mi manca quello, mi manca l'altro. Disastro. Siate più rapidi, per favore. Su questo lo dico anche e soprattutto ai clienti. Svegliatevi, siete lenti come la morte. Punto numero due, mancanza di controllo. Questo è un altro aspetto gravissimo che noi abbiamo visto, in questo caso soprattutto nelle attività, ma anche proprio in quelle persone che iniziano, ok, a mettere un piede all'interno proprio del professionismo. Cioè, cosa significa mancanza di controllo? Non avere strumenti per poter tenere sotto controllo l'andamento della propria attività, delle proprie strategie, delle proprie progettualità. E quindi che cosa succede? Fare, magari, affidamento a strumenti esterni. Questo, per farvi un esempio banale, lo vedete tantissimo nel mondo artistico, per esempio sui social. Cioè, io trovo assurdo come le persone non riescono a capire che, ad esempio, utilizzare YouTube, utilizzare Instagram, utilizzare Facebook, utilizzare delle piattaforme per promuovere. Quindi, do per scontato che a promozione ci dovrebbe essere un modello alla base e un sistema di marketing, ma dando per scontato questo, promuovono, magari, senza sapere bene che cosa stanno facendo e soprattutto lo fanno anche in una condizione e su delle piattaforme che non sono le loro, che magari dall'oggi al domani potrebbero non esistere più. E che tipo di controllo avete su questo? Cioè, avete mai pensato a cosa potrebbe succedere? Ad esempio, facciamo il mio esempio, il nostro esempio, che è più facile. Ma domani esplode YouTube, non esiste più. Cosa faccio? Rimango così perché tutto quello che succede, succedeva grazie a YouTube? Ma no, attuo dei sistemi e dei meccanismi di controllo. Quindi ho i contatti profilati, ho una lista costantemente aggiornata, ho un canale di comunicazione differenziato a seconda delle tipologie di target con cui vado a operare, interloquire. Ok, ora, senza andare nella complessità che sicuramente magari le persone non percepiscono, ma c'è dietro MB. Però, cosa succede? Che io mi devo sempre, e ci dobbiamo sempre preparare, al fatto che le cose possono cambiare. E non sempre possono cambiare meglio, possono anche cambiare in peggio. Quindi, abituatevi anche a pensare al peggio. Cioè, abituatevi a pensare a dire, ma se domani, ad esempio, non so, sto insegnando in una scuola che mi garantisce X al mese, ok? Ma se domani quella scuola non esisterà più, se domani quel cliente, che è il cliente su cui magari si sostiene la mia attività, cosa che abbiamo visto in tantissime situazioni, cioè attività professionali che stavano in piedi e stanno in piedi magari per un fornitore o due fornitori, che siano etichette discografiche, che siano editori. Mamma mia, situazione veramente fuori controllo. Quindi cercate di stare ed essere in controllo di ciò che state facendo e adottare meccanismi di controllo. Punto 3. Troppa verticalità. Questo è un altro aspetto che mi fa specie dirlo oggi, ma noi notiamo che tutti sono impegnati a guardare il loro buco di culo e dire perché io mi occupo di questo e faccio questo, perché come lo faccio io, io uso queste cose qui, perché allora se io... Cioè siete tutti veramente dentro mentalmente nell'aspetto verticale di quello che è la vostra expertise, il vostro lavoro. Che dico da un certo punto di vista, ma anche bene, perché nel momento in cui dobbiamo andare a operare è normale che io mi aspetto che il chirurgo che operi conosca gli strumenti, ma il chirurgo che opera, ok, adesso io uso questo parallelismo sicuramente un po' estremo, deve sapere l'anatomia, ok, del funzionamento, i meccanismi, immagino, ok, del corpo umano, ok, io adesso sto andando in semplificazione. Perché? Perché se no farebbe di grandi disastri. Ecco, noi abbiamo notato che c'è grande difficoltà a guardare il meccanismo, il corpo umano della vostra attività. Cioè non riuscite a capire quali... perché gli elementi devono muoversi insieme, quando è bene focalizzarsi verticalmente sullo strumento e quando invece è bene avere, non so come dire, un focus più ampio ed elevato. Cioè perché siete tutti estremamente verticali. Anche qua, estremamente verticali io mi tengo anche a dire a volte nella conoscenza. Cioè cosa vuol dire? Oggi ragazzi, io ve lo dico da persona che, se fosse per me, me ne sarei tutto il giorno ad ascoltarmi musica, a suonare, a fare le cose che mi piacciono bene, sapete che dovete trovare un balance e quindi dovete occuparvi e preoccuparvi anche di tutti quegli aspetti orizzontali che riguardano la gestione del vostro lavoro. Ahimè, è così. E ve lo dice una persona che questo lo fa perché è costretto, ok? Perché, ripeto, nessuno lo farà al posto vostro. Quindi, ripeto, cercate di essere meno verticali e fare attenzione ad essere più orizzontali. Quarto, livello troppo basso. Ok, io qua ho messo livello troppo basso soprattutto strategico. Questo è un altro aspetto che mi duole veramente dirlo. Quando parlo di livello troppo basso non intendo livello strumentale, livello tecnico verticale, ma intendo proprio che io mi accorgo che questo è un settore dove ci sono delle forti disabilità cognitive, ok? Io uso questo termine forte, noi lo usiamo, chi ci conosce e chi si affianca a noi sa che noi siamo soliti darci dei disabili a noi stessi, quindi tutti noi, tutte le persone hanno una qualche disabilità, però in questo settore, ragazzi, veramente la disabilità strategica è qualcosa di imbarazzante. Cioè, io la trovo veramente imbarazzante. Cioè, non so se perché è un settore di natura estremamente creativa e quindi laddove c'è grande creatività c'è anche grande egoismo, perché logicamente è un settore molto egoico e quindi di conseguenza c'è la difficoltà nell'aprire la propria lente e allontanarsi dalla propria lente di ingrandimento. È un disastro, cioè c'è un livello inquietante. Cioè, voi pensate che su 99 attività su 100, ok, che abbiamo analizzato, non c'è un controllo di gestione, non si ha un controllo in generale, cioè non c'è un sistema organizzato. Ma neanche, io dico, c'è neanche proprio la base della base della base, cioè voglio dire un minimo qualcosa che vi possa permettere di avere un po' il culo parato e di non ritrovarvi ogni mese a dire ma chissà come andrà questo mese se arriveranno dei clienti alla mia porta oppure no. Cioè, c'è un livello, io vi giuro, ve lo giuro, inquietante, proprio inquietante. Quindi non mi sento di aggiungere altro. Cioè, è una cosa che vi posso garantire è faticoso doverlo dire. E lo dico con fatica perché so cosa significa non essere strutturati e organizzati. Però oggi, dai, con tutte le informazioni che si possono trovare è veramente, cioè non si può, non è più accettabile. Punto numero 5. La situazione online è diventata fantoziana. Cioè, cosa vuol dire? Perché oggi noi, e lo diciamo sempre di più, il focus e l'attenzione deve andare sulle progettualità, soprattutto offline. Perché? Perché le persone credono, ormai è diventata una credenza comune, che buttarsi online sia qualcosa che può fare chiunque, che non servano competenze estremamente verticali. Come dicevo all'inizio, non serve sapere veramente bene, ok? A chi si sta parlando e quindi avere chiaro, ok? Un target molto specifico. E quindi la situazione online è diventata, a mio parere, fantoziana. Cioè, io qua lo dico anche magari uscendo dal seminato e andando in settori che non sono necessariamente quello musicale. Ma se vi guardate tutto quello che oggi ha a che fare con il mondo del lavoro, a mio parere è arrivato a dei livelli dove io mi chiedo se chi guarda determinate cose riesce veramente a capire di che cosa si sta parlando o se invece sono degli esseri, cioè se il mondo è popolato da esseri che hanno una sorta di, so, al posto del cervello ora hanno delle polpette che si camminano, non so, per strada. Cioè, io dico, ma è anche lì, è diventata fantoziana la questione. Ma voi pensate anche al discorso che c'è online? Sui guadagni, su quello che è il lavoro a guadagnare X al mese, Y al mese. Cioè, ma le persone non hanno idea di che cazzo vuol dire fare certe cifre. Ma non ne avete un'idea, no? E io dico, ma questo non è che lo dico per fare il fenomeno occhio, lo dico proprio perché rimango basito di quanta disabilità cognitiva, scusate, tirerò fuori nuovamente questo termine, disabilità cognitiva ci sia in giro per il mondo. Cioè, non capire il contesto esterno rispetto al proprio contesto interno e saperlo valutare, calibrare. Cioè, è allucinante. Quindi, se pensate che il mondo online sia facile, vi sbagliate. E più si va avanti e peggio è. Quindi, ripeto, da questo punto di vista, se avevate in mente di utilizzare come strumento online, valutate che oggi dovete essere veramente dei gladiatori, ok? Per riuscire a farlo in modo sostenibile e profittevole. Questo, occhio, perché non vorrei che passasse un messaggio negativo, questo è un doppio vantaggio, ok? Nel settore della musica, siccome il livello è veramente sotto i piedi, basta veramente poco per riuscire a fare quello che serve bene per ottenere dei risultati, ok? Basta applicarsi e basta farlo in un certo modo, ok? Punto numero sei. Gli artisti... Mancano artisti forti, punto. Cioè, io questo non so come altro dirlo. È qualcosa che sicuramente nel nostro settore lo vediamo e credo che tanti possono essere anche d'accordo. Cioè, ci sono progetti molto interessanti, ma che vanno sempre ricercati. Non c'è spazio per il bello. Cioè, c'è sempre spazio per il grottesco. Non c'è mai spazio per il bello. E, però, nella media, noi lo vediamo, che gli artisti sono molto, molto, molto pochi quelli forti, ok? E l'altro giorno ne parlavo con un collega, ok? Dove ci siamo ascoltati insieme un disco, ok? Di John Mayer, mentre eravamo a cena, ok? A casa mia. E noi poi, ascoltando questo disco, Continuum, di John Mayer, o John Mayer, adesso non lo so a seconda di come si pronuncia, disco pazzesco, Steve Jordan a battere, cioè, un disco pazzesco. Noi ci siamo guardati e abbiamo pensato, ma quanto sarebbe facile lavorare con artisti forti? Sarebbe facilissimo. Peccato che sono veramente diventati rari, rari, merce rarissima. Punto numero sette, la semplicità. Fate tutto troppo complicato. Cioè, banalmente, andate in semplificazione, dove non dovreste andare in semplificazione, e tendete a sovrastrutturare, o a mettere troppi se e troppi ma, dove non dovrebbero esserci. Quindi, cercate di essere più semplici, semplici nei vostri ragionamenti, però, allo stesso tempo, essere semplici, cioè, costruire semplicità, non significa assolutamente, anzi, esattamente il contrario, essere superficiali. Cioè, anzi, se voi ci pensate, le cose semplici, funzionali, sono estremamente complesse. Facciamo un esempio, sempre su esempi di cui vi posso parlare in prima persona. Magari una persona che guarda e vede MBI, dice, vabbè, cazzo ci vuole, fai qualche video, ok? Si prendono delle tematiche, le si studia, le si fanno contenuti informativi, eccetera. Voi non avete idea, dietro a questa semplicità, quanta complessità. Cioè, se voi guardate il nostro CRM, probabilmente sgranereste gli occhi alla seconda delle 12 pagine di gestione, ok? Di tutto quello che è in corso, a livello interno, esterno, dal punto di vista business, dal punto di vista di modello, dal punto di vista di plan, dal punto di vista di timeline, dal punto di vista di marketing, dal punto di vista promozionale, dal punto di vista procedurale, dal punto di vista del team, dal punto di vista delle risorse, dal punto di vista di tutti gli aspetti tecnici che vanno portati avanti, non ve ne fate un'idea. Quindi, anche qua, occhio, non andate in semplificazione dove non dovreste andare in semplificazione, e allo stesso tempo cercate però di andare in profondità e costruire dei sistemi semplici e funzionali è un grande consiglio molto difficile da seguire, capisco punto numero 8, pragmatismo è un punto collegato al numero 1 quindi essere lenti, troppo lenti anche qua, noi lo vediamo le persone parlano, in questo settore è pazzesco in questo settore le persone proprio parlano, 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 parlano parlano, 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 parlano parlano, 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 parlano e tu dici, ma quando si fa? ma quando si fanno delle cose? e a volte le persone anche qui, magari soprattutto online ci dicono, vabbè, fate cosa avete fatto voi, beh, allora noi abbiamo fatto per esempio, in 2023 abbiamo fatto 3 dizionari abbiamo seguito più di 200 persone abbiamo fatto dei test su più di un artista, penso, producendo oltre 15 produzioni, facendo più di 15 produzioni, che voi direte, vabbè, ma che cazzo sono 15 produzioni, vabbè, in un anno e mezzo di tutto abbiamo fatto talks in giro, abbiamo iniziato, abbiamo aperto la linea MB talks abbiamo ok, abbiamo fatto una quantità di roba che, se ci penso, dico ecco da dove arrivano tutte queste occhiaie per cui, ragazzi, pragmatismo non state lì a guardare le farfalle ok, anche se ormai piuttosto che i cambiamenti climatici sembra arrivare la primavera così dall'oggi al domani cercate di essere pragmatici e soprattutto punto numero 9 attenzione e qua mi divertirò tantissimo perché le persone scambiano i miei toni con aggressività quando in realtà io mi prendo in giro prendo in giro cioè essere umili cioè io a volte ci penso e dico ma cazzo ma io tutte le volte che apro un libro dico non ne so una minchia di sta roba quanto non ne so niente quanto devo imparare ancora da queste cose qua quanto mi quanti aspetti che non ho ancora studiato quante cose non ho ancora implementato quante cose devo imparare per riuscire veramente anche noi lo vediamo e questo lo dico veramente occhio perché qua sto per tirare la bomba atomica cioè noi per esempio prima matrice competenze e esperienze che facciamo all'interno dei nostri percorsi di affiancamento quindi il primo step dopo lo studio dei materiali eccetera eccetera è dire ok partiamo dalle tue competenze dalle tue esperienze facciamo un match competenze e esperienze e le prove ok di tutto questo prove significa aspetti tangibili che possono confermare quelle competenze quelle esperienze cioè noi quando chiediamo alle persone ok datti una valutazione da 1 a 10 di quello che è non so la tua competenza verticale dal punto di vista musicale ma noi abbiamo mai visto uno darsi meno di 8 non abbiamo mai visto uno darsi meno di veramente 7 e mezzo 8 8 e mezzo 9 cioè tutti si sopravvalutano ma io dico e qua parlo per me ma quali sono i vostri modelli perché è logico che se il vostro modello è il pollogino di Casar Pusterlengo che ha all'interno della sua aia ok e del suo pollaio uno spazio di manovra lungo 10 e largo 2 bene sarà confinato dentro quella linea ma riusciamo a aprire gli occhi cioè quali sono i vostri modelli io qua parlo dal punto di vista musicale ma vi siete guardati intorno e avete visto quanta gente brava c'è in giro c'è riuscita a fare una B delle si riesce a fare parlo per me parlo per me una B delle competenze cioè quando io dico io parlo per me ripeto occhio parlo per me quando mi sento un fenomeno dico no perché io sullo strumento ma con chi mi sto confrontando mi sto confrontando non so con Steve Gadd mi sto confrontando con Rick Marotta mi sto confrontando con Bernard Parley mi sto confrontando con Ciccoria alla batteria mi sto confrontando con Steve Jordan mi sto confrontando con Art Black mi sto confrontando con Jack Dejonette con chi avete un confronto perché questo è grave lasciatemi dire che è grave io quando vedo i ragazzi autovalutarsi per le proprie competenze sette e mezzo otto eccetera eccetera ma vuol dire che voi avete nella vostra testa l'idea di essere già ad un livello talmente alto che non vi serve niente di più non vi serve imparare io invece mi dico no io sono una merda a fare questo sono una merda a fare musica sono una merda a fare marketing sono una merda nella conoscenza di questo argomento specifico perché perché se parto dall'idea di essere una merda magari mi applico e invece è assurdo c'è umiltà zero e poi anche lì magari persone invece al contrario estremamente competenti che dovrebbero essere un po' meno umili invece non lo sono ok e anche qua l'umiltà ripeto deve esistere essere critici dal punto di vista valutativo e soprattutto misurare a livello professionale le proprie competenze attraverso i risultati questa è una cosa su cui negli ultimi mesi abbiamo rotto veramente le palle sì bello darsi delle belle valutazioni o dire sono bravo a fare A sono bravo a fare B sono bravo a fare C sono bravo a fare D quante volte ti hanno pagato per quella competenza sei mai stato pagato per fare quel lavoro sei mai stato pagato per fare quella cosa allora bisogna un attimino ricalibrare quindi questi erano i punti che io mi sentivo di tirare fuori in questa serie di video spero siano stati utili io vi ricordo che alla fine di febbraio saremo qui a Torino all'MB Talks all'arteificio ok dove parleremo di musica mercato musicale business lavoro ok parleremo di tutte le tematiche che trattiamo normalmente su questi canali ma lo faremo in modo estremamente più approfondito e soprattutto in un confronto aperto quindi se non siete mai stati a Torino è forse la scusa ottima per farlo al link in descrizione trovate le info all'evento che ovviamente ha su selezione ok quindi ingresso gratuito con selezione e numero limitato quindi se volete maggiori informazioni usate le vostre chiele seguendo il link in descrizione arrivederci a tutti a tutti Grazie a tutti.